buonasera buonasera a tutti benvenuti in questo nuovo video prima di parlare della finale di davis del sorteggio e del fanta tennis l'invito è come al solito a iscrivervi al canale mettere like al video l'iscrizione al canale serve appunto per i premi del fanta tennis di cui parlerò dicendo che il calendario è completato in questo video quindi iscrivetevi al canale mi raccomando la diretta di domenica 12 alle 18 per regolamento e calendario del fanta tennis oggi vi dirò soltanto qualche cosina di del fanta tennis per prepararvi poi la diretta ci sarà domenica domenica 12 finale finale di coppa davis non riesce il miracolo a goio che perde 64 76 contro contro un ruble che era battibile ma io ho fatto un paio di leggerezza nel tie break del secondo set sono convinto che se l'avesse se fosse riuscito a portarlo al terzo ruble avrebbe patito la pressione ma goio ha lasciato una palla sanguinosa nel time all'inizio tie break che poi ha sbagliato un'altra palla nel finale di tie break quelle due due lasciate che poi sono finite dentro mi sono costate il secondo set e quindi la partita nel secondo singolare cdc di ci ha retto un set contro contro me vedeva perso il tie break del primo avendo un mini break di vantaggio e poi nel secondo il russo ha preso le misure e ha vinto e ha vinto abbastanza facilmente il video lo faccio prima del doppio non so se il doppio se il doppio verrà giocato oppure se gli consegnano direttamente la coppa credo che a questo punto il doppio sia un esercizio inutile nel senso che a partita finita di una finale poi anche davvero non giocarla non giocarlo il doppio e dunque vince la squadra più forte perché i russi si sono presentati qua con quattro top 30 con con due top ten insomma una squadra molto forte noi potevamo competere se avessimo avuto berrettini nel momento in cui manca berrettini quindi manca il nostro miglior giocatore è chiaro che la russa la russia aveva tutti i favori del pronostico dalla sua russia che quindi vince la coppa meritatamente nella coppa per la croazia delude cilice perché di cinque partite ne ha vinte una nel gironcino poi non è più riuscito se fosse stato per cilice la croazia usciva tranquillamente contro di noi nei quarti di finale quindi un applauso un grosso applauso a goio anche se oggi ha perso ma è stato veramente l'eroe croato della settimana li ha portati li ha trascinati in finale portando tutte le serie al doppio un grande applauso ai russi che vincono ripeto meritatamente la coppa era la squadra che doveva vincere e che era la squadra favorita e ha vinto oggi c'è stato il sorteggio io ho messo un breve video sul 2022 sulle qualificazioni del 2022 per chi non lo sapesse spiego che le qualificazioni sono diverse dalle final si giocano in questo caso in slovacchia giocando due singolari il doppio e gli ultimi due singolari in due giorni invece che in tre il primo giorno si giocano i due singoli il secondo giorno si gioca il doppio e i successivi due singolari solita regola della vecchia davis ovvero nel primo giorno il numero uno sfida il numero due il numero due sfida il numero uno doppio e poi numero uno contro numero uno e numero due contro numero due c'è toccata la slovacchia in trasferta trasferta ostica storicamente andare a giocare all'estero né mai in coppa davis non è mai un boccon da ghiotti ma onestamente se riusciremo da più a marzo a portare berrettini e nella forma attuale non dovrebbero esserci considerando che si gioca su quattro singolari un doppio io non vedo e considerando anche il livello degli avversari il loro miglior singolare il loro miglior singolarista è un mi sembra 80 un 90 al mondo quindi insomma non vedo grosse difficoltà nel superare il turno la polemica è che quando crearono questo format decisero che le wild card dovevano essere date alle squadre che avevano almeno un top ten in squadra ecco giustissima la wild card alla serbia perché ovviamente al gioco vici numero uno un pochino meno giusta la wild card agli inglesi che non hanno top ten ma hanno avuto il merito di votare questo schifo di nuova formula e quindi il famoso voto di scambio li permette ora di incassare la wild card la federtennis si accontenta di avere la coppa su super tennis questo è il contentino che hanno dato a noi e noi ce ne andiamo in slovacchia non che sto ripeto non dovrebbe essere un impegno improvo per i nostri però insomma le trasferte di davis sono sempre trasferte di davis era meglio che era meglio essere già alle final anche solo per per non sfalzare la stagione è il momento in cui si stacca tra il cemento americano la coppa cade la settimana prima di monte carlo quindi il momento in cui si stacca tra il cemento americano e la terra europea quindi sarebbe buono non andare in slovacchia a giocare sul cemento purtroppo ci è capitato e vabbè comunque ripeto non dovrebbe essere un problema per quanto riguarda il fanta tennis anticipazione saranno 30 le tappe del del torneo più in qualche settimana ci saranno un torneo maschile e un torneo femminile non 30 tappe appunti i punti saranno gli stessi dei dei tornei atp e vt a con con una una sorta di malus che vi spiegherò domenica altrimenti vi dico tuttora comunque il il fanta tennis ci terrà impegnati dal 13 gennaio fino alle atp finals con l'ultima parte un po di radata di calendario perché ovviamente mancando la parte asiatica del circuito e essendoci qualche torneo europeo di cui non è stata ancora data la conferma definitiva mi riserverò di aggiungerlo eventualmente in corso d'opera ecco però più o meno saranno 30 le tappe del del torneo divise tra atp 250 atp 500 atp 1000 e i4 slam questo è poi per per le regole ripeto diretta domenica prossima tra sette giorni tra sette giorni alle ore 18 i premi saranno otto ovviamente a scalare il primo premio sarà l'ingresso questo ve lo dico perché l'ho già detto in qualche commento a al torneo di roma 2023 il lunedì e poi ci saranno premi a scalare premi di svariata a partire dal settimo ottavo che sarà un premio molto piccolo fino al terzo quarto premio che è comunque un premio non di grosso valore ma è un è un piccolo è un piccolo pensiero che farò io anche per ringraziarvi della partecipazione a tutti e gli otto che arriveranno in fondo e come come vi spiegherò domenica si giocheranno le atp finals perché le atp final se le fanno solo gli ulti i primi otto in classifica dopo per si detto questo io vi vi ringrazio vi saluto vi invito alle pagelle dei top 20 che farò in settimana mi raccomando commentatele e poi invito ovviamente alla diretta di domenica prossima perché quella sarà la diretta dedicata al fanta tennis dove dove spiegherò regole e premi per il torneo che partirà lo ripeto il 3 di gennaio con il primo torneo femminile grazie a tutti buona serata la russia ripetendo che la russia è campione del mondo di una formula che a me non piace ma comunque ha vinto la coppa davis 2000 2021 e che la stagione purtroppo la stagione 2021 finisce qua ci sarà ripeto l'appuntamento con le pagelle poi l'appuntamento con la diretta del fanta tennis poi qualche altra cosina per accompagnarci all'inizio del torneo ovviamente gli auguri di buone feste questi per quelli ve li farò al momento opportuno ma valgono già da ora io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo appunto tra mercoledì e giovedì per le pagelle e poi mi raccomando domenica per la diretta per il fanta tennis per capire regole e premi del fanta tennis grazie a tutti e buona serata